Bella ragazzi ed eccoci tornati qui con il secondo video degli FFM Television Io mi presento, mi chiamo Matteo E quindi come avrete già potuto dedurre dal mio nome, sono la M della nostra sigla Io sono colui che porterà i giochi sclerotici Infatti questo gioco che ho deciso di portarvi come video iniziale è Mad Max Se non mi sbaglio si chiama, è una roba del genere E sarebbe, cioè è Super Meat Boy solamente per il telefono Farò video il venerdì, credo anche il sabato Perché comunque oltre a Super Meat Boy che serve questo qui Mi mente anche di portarvi un video che, cioè un video in fine settimana Così è più facile da guardare perché non ci sono impegni scolastici Comunque direi subito di iniziare Ci guardiamo questa fantastica storiella One fine day, what's is it? Compae una mano Aiuto aiuto Tra l'altro quella non se ne sbatte, c'ha gli occhi tranquilli comunque Sti gatti It's, ah Cioè subito così? No ma va che roba? Sono un pro? No io ragazzi comunque non l'avevo provato Cosa, non l'ho ancora provato Cosa devo fare? Dovrei andare su con quello lì Ok, sono un deficiente Devo aspettare che salga l'ascensore e andare su, credo Sì Sì, perfetto Ok Oddio Attenzione i salti, le skill, attenzione Attenzione le skill, le sale sul tetto, dove devo andare? Lì qua credo Su questo coso qui No, ma che cazzo Ok Effettivamente non dovevo andare di là Eccoci qui Scusate il piccolo taglio ma Problemi degnigi Dovevamo andare a destra a quanto ho capito E adesso non ho idea di dove andare Salto qui sperando che sia la cosa giusta Sì, è la cosa giusta Non capisco cosa sono queste cose azzurre Ah, tipo il tutorial che ti dici dove andare Beh, dalla prossima volta ragazzi vedo se posso togliere perché così è troppo facile Boh, lanciamoci giù Aia che ginocchiata che hai tirato amico mio, mi dispiace To stick the wall, press and hold Ok, quindi dovrei fare così Ecco Dovrei fare così Mamma mia, inizio già a sclerare Dovrei fare così Alternare le cose Sì, salto Perfetto Oh, lì c'è una chiave, bella Andiamo subito a prendere Attenzione, ma sono portato in questi giochi C'è le skill, le si vede dall'inizio Dove cazzo devo andare? Dove andare là senza schioppare Per Sparta Ok, perfetto Primo livello Sì, saltate Se l'andamento morirete tutti Primo livello completato Io direi subito di andare col prossimo Eccoci qua col prossimo Eeeh, cos'è? Devo portare avanti sta cosa? Tutto ciò? Cos'è servito? Tanto potevo fare semplicemente Slup E andare qui Credo di aver capito cosa Aaaah No, non ho capito cosa devo fare Madonna che testate che sto tirando E salto E che devo portare questo qui su? No, non ho capito cosa devo fare Cosa c'è là sopra? Ah, lì c'è la cosa, ok Allora, cerchiamo Effettivamente ti devi levare linea di merda Devi farmi salire le skill Sali! Sono morto malissimo Ecco, potrei essere Potrei già impiantarmi in questo maledetto punto Se solo sapessi come cazzo si supera Dai, e dai Allora Porca di quella porca Devo riuscire a salire Levati il cestino di merda Jump from wall Quindi così Aaaah Ma che deficiente No, sono un ritardato Non riesco a saltare Olè Finalmente le skill Attenzione Attenzione Sempre lui Qua ci si è una craniata Sopra il muro Ne sono sicuro No, invece no La freccia indica qua sotto Ah, comunque sono sparite da sole Le Diciamo gli aiuti Ottimo Ho paura di scendere? Ok Non dovevo avere paura Oh, ehi che? Oddio mio Cioè, lucinogeni per lui Si droga E' più un volo della madonna Allora, ecco Porca Eva Dovevo rimanere lì Sono ritornato Dovevo prima Sono ritardato Ma se faccio così lo salto Ma no Sto tornando indietro Quanto sono deficiente Scusate la mia deficientaggine Ma Mia mamma ha fatto così Quindi Prendetela con lei Allora Si va qui sopra Eh, vabbè Ma non è possibile Sono proprio mongoloide Però, eh Allora Porca di una porca Vado qui Frenati Vai qui Qua ci faccio una brutta fine Già lo so Non ci posso credere Non ci posso Sono ritardato Sono ritardato Sì Sì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Sono morto tipo Altre tre volte Come un idiota Vi ho risparmiato la parte Perché era davvero ridicola Comunque Dove dobbiamo andare La freccia indica giù Quindi dovrei Secondo me Entrare qua Io ho paura di lanciarmi Perché se mi lancio Aspetta Ma sotto c'era l'inizio del livello Vado in tutio Mi lancio Ok 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 Mamma mia Che player Signore Mamma mia Whatsapp Non rompere Grazie Ok Scusate ragazzi Continuo a fare questi piccoli tagli Però praticamente ci sono le Compaiono le pubblicità Perché se sono ritardato Io tengo la connessione attiva E dai No adesso scherzo Oddio Cos'è Eh la madonna Tiratemi già a sparte Tutto l'esercito antico Già che ci siamo Tanto è inutile Che non riesco neanche a superare questo Inutile Che mi sparano i missili Attenzione i numeri Sono morto come un deficiente Io morirò 6.000 volte qui Allora Con calma Ho sputato sullo schermo Che schifo Ok allora Con calma Guardate il sangue Tutto lì schizzato Sulla cosa Che fastile Eh missili di merda Allora ce la posso fare Non è difficile Non è difficile Ok rimani qui Rimani qui Numeri Numeri Attenzione le skill Le skill Mamma mia che player Dove cavolo devo andare Sono bloccato Ci continuo a tirare craniate Su craniate Ma basta Ma basta Che sali Non è possibile Allora Mantieni la calma È tutto a posto Devi solamente saltare Su sto muro infatti A me E spiaccicarti dall'altra parte Non è così difficile No 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 Eh No Non ditemi che è così Aspetta eh Dai E sali E sali Attenzione No no Sì Cosa bisogna fare Dai Dai Non è così difficile Le skill Le skill Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Senti Quei missili in culo Verificate Oh mio dio Sì vabbè Ma che sono Rambo Tutto dall'inizio Ma vuoi che palle Oh mio dio Manteniamo la calma Manteniamo la calma Maledetta Via via Parte la Non lo so Parte Se è drogato Probabilmente Che ha fatto uno scatto Della madonna Neanche gli usa in bolt Con gli alluce inogeni E le droghe pesanti Ce la fa Dunque I nuvi Le skill Dai spiaccicati di qui E di qui E dai E dai E dai Madonna Questo pezzo È facilissimo Matte Concentrati Dai Ok 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 Perfetto Adesso Rimaniamo fermi Le skill Attenzione Si destreggia Mamma mia Mamma mia Vai adesso Era una finta Via adesso Era una finta Pure questa Via adesso Devi saltare Però se io ti faccio saltare Tu devi saltare Mamma mia Le skill No No Non è possibile Non è possibile Allora Contro il muro Contro un altro muro Io adesso spacco tutto Contro un muro Contro l'altro muro E non va Allora Devi saltare Su sto cazzo Di muro Ma se io faccio così No Continuo a tirare Cranate Come un ritardato Quindi Sì No Dove devo andare Fermo Ma va Che così Si scende Più lentamente Ma dirlo Prima no Ok 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 No 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 Cos'è Non ci salirò mai Ma mai Ma neanche se mi Aspetta Ho un'idea Eccolo Non ci salirò mai Oddio mio Ho visto la morte in faccia Potevo parecchio Incazzarmi Tra l'altro Sono già passati 100 secondi Io parlando Mamma mia Non si riesco a fare una cosa Io non penso Che questa cosa Mi stiri Perché se mi stira Sclero Dai dai Devi salire Devi salire È già impossibile Il primo livello È già Impossibile Il secondo Il terzo Quello che sia Di livello Figuriamoci gli altri Mamma mia Adesso Dai dai Scendi Macchina infame Eccolo 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 No 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 Ce l'avevo quasi fatta Ce l'avevo Scendi Scendi adesso No Non ti devi Spiaggi Non ho parole Non ho parole La strada era di qui Non ho parole Sono un coglione Ok ragazzi Vi taglierò un attimo Questa parte Perché vado un attimo A sbolire la rabbia Per la mia deficientaggine Comunque Appena arriviamo lì Ci ritroviamo Ok ragazzi Eccoci Ritornati È qui da Mezz'ora Probabilmente Che sto cercando A passare Questa maledetta parte Ve la sto continuando A tagliare Perché sto veramente Sclerando Quindi provo a farla Con voi L'ultima volta E in caso Magari la Se non riesco a farla Adesso Cercheremo di provarla Le altre volte Allora andiamo Salta Saltella Perché lì c'è Ok No 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 Sono un deficiente Nel mio cervello Nel mio cervello Non c'è la materia grigia C'è la materia marrone C'è la merda Bene ragazzi Direi proprio di concludere Perché sto veramente impazzendo In fondo questo qui Era un video solamente Di presentazione Spero che vi piaccia E noi ci vediamo Alla prossima Bella